Scusa Giulio, ti ritiamo dopo. Ciao ragazzi, non so per voi, ma che per gli anni delle scuole medie sono stati molto duri. In prima media un ragazzo ha cominciato a delidermi per via del mio aspetto fisico. Era più basso e magro rispetto ai miei petanii. E il fatto che ero introverso non aiutava. Col tempo anche altri ragazzi non avevano cominciato a prendermi in giro. Le convinzioni del bullo avevano cominciato a diffondersi come un virus. Finché Giulio mi si è avvicinato e mi ha spinto ad accrimi con lui. Una volta capito i miei sentimenti è riuscito a prendere le mie difese facendo capire ai compagni che il bullo stava sbagliando. Penso che se Giulio non mi avesse aiutato non sarei riuscito ad uscire da questa situazione. E ora non sarei qui a raccontargli la mia esperienza. Forse non tutti lo so, ma ogni anno. 2500 ragazzi sono vittime di bullismo. Non rimanere in silenzio, anche da solo per fare la differenza. Destino cuore periodora decineLETRACO e pupitare le mie riuscito ad uscire da 50 anni. Per fare qui vedete le mie infi, sorti di un paese che laginkose. Esattva già essere persozi da un pane di tre me pastile. Non ve niño deafo! Grazie a tutti.